no ma in carto c'è il latte in sti giorni quasi quasi se viene bene faccio un tour del mondo è tutto in creativa però ci ho messo un bel po' di tempo è praticamente scelto ho creato un mondo, sono andato in giro perchè non ho trovato un luogo ideale e in quel luogo c'era anche un villaggio e l'ho modificato e l'ho reso tipo medievale poteva anche pararlo era in fondo a prendermi il turno pensavo che c'eri invece leggero lag che culo 56 di ping ho mai avuto attenzione e l'ho messa lì in mezzo ha sbagliato incredibile nooo potrò metterla in porta che culo che cosa è l'ho messo l'ho messa l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo l'ho messo la che palio ho dovuto stopparla in fretta ci ho fatto tutto di fretta e si tu no esco io ah ma non ci sono un dato yes 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 e devi andare tu eh vabbè il se somiglia e me no beh si è in mezzo in qualche modo però non ci sei vado a prendermi il tu insomma feicati tutti quanti mi piace occio è gol mamma mia Frank cosa sei sei un vi è uscito in terra azza quittato hanno quittato oh due su due che li facciamo quittare guarda come si è fermata no bravo Frank facciamoli capire che comanda Hitler oh 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 bella merda vabbè grazie al cazzo è come dire se saliamo anche in tre v3 può succedere sta roba non ci sono mamma mia non so come sia passato non schipare si che culo va bene non so come friend perchè che 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 Frank? Ah, la stessa roba No, cazzo Oh, shit Oh, shit Ok, so good No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Oh, oh Che cazzo di gol ho fatto? Mamma mia, troppo forte sono Vecchio Oh, mamma mia